L'arte, le suggestioni, il racconto di Carlo Levi cuciti letteralmente addosso e l'idea della stilista lucana originaria di Roccanova Carmela Fortunato che ha presentato due abiti ispirati all'aliano di Levi proprio nel paese che lo vide esule e nel quale poi lui decise di riposare per sempre dopo la sua morte. Uno shooting fotografico curato da Teresa Lardino nei vicoli del paese, nel terrazzo della casa di Levi. Poi gli abiti e gli accessori in mostra tra gli scatti e i quadri negli spazi della Pinacoteca. Tutto in una giornata particolare, i 120 anni dell'artista antifascista che nacque a Torino il 29 novembre del 1902. Carlo Levi lo vediamo spesso sui quadri, sui libri, sui suoi scritti e questa è una grande novità, un'esclusiva perché ha voluto mettere la sua arte sui miei abiti e credo che l'arte di Carlo Levi sugli abiti rappresenti davvero la Basilicata in tutto tonto. Perché la scelta di questi colori e poi ovviamente proprio di queste immagini che naturalmente sono riconoscibilissime, rappresentano l'arte di Carlo Levi e soprattutto dei volti di questo territorio, di questo paese? Sì, ho voluto scegliere addirittura gli stessi colori che lui ha usato perché aveva dei colori molto lampanti, insomma, l'azzurro del cielo di Aliano, i Calanchi e quindi ho voluto rappresentare questi personaggi. Quindi qui c'è Giulia, la sua governante che è stata accanto a lui per tanti anni e qui Tonino, il ragazzo lucano. E quindi ho dipinto queste tele e poi cucite addosso, quindi un bustino con passamanerie a ricordare anche il costume tipico di Aliano, quindi ho usato queste passamanerie di oro ed è stato bellissimo ed emozionante. Noi li porteremo in giro per tutti gli eventi che faremo, dagli eventi del Carnevale agli eventi su Carlo Levi che non finiscono oggi, che cadono i 120 anni, ma finiranno il 26 maggio del 2023 che poi è una data simbolo per Aliano quando Carlo Levi abbandona definitivamente Aliano per far tappa a Firenze e scrivere il Cristo si è fermato a deboli.